L'altoparlante amplificato XF950KB di Trevi è uno speaker potente che grazie alla sua maniglia trolley può essere trasportato ovunque. Grazie alla connessione Bluetooth riproduci la tua musica collegando XF950KB ai tuoi dispositivi compatibili come smartphone e tablet. Con i due ingressi microfonici di cui è dotato l'altoparlante potrai trascorrere serate di karaoke super divertenti con chiunque vorrai.